Elizabeth Urley Elizabeth Urley, Damian diventa attore, e lei è super orgogliosa Con gli stessi occhi azzurri della mamma, e il corpo da modello, Damian Charles Urley figlio di Elizabeth Urley e delluomo daffari Steve Bing ha sempre avuto il destino segnato A soli 15 anni, è già alla sua seconda apparizione in tv. Per la gioia della famosissima mamma È giovanissimo, Damian Urley, nei suoi 15 anni di vita, grazie al lavoro di mamma Elizabeth Urley, top modelle attrice, il ragazzo ha vissuto sotto i riflettori. E, per lui, le passerelle e il cinema sono la normalità. Ora, però, sembrerebbe essere pronto a fare il grande salto, da figlio di, Damian Urley si appresta a diventare un vero attore, muovendo i primi passi in una carriera che proprio a causa del suo cognome è destinata ad essere analizzata al microscopio. Lo scorso anno, Damian aveva avuto un piccolissimo ruolo come quest star nella serie di E.T. Royals, in cui recita mamma Elizabeth. E, oggi, si prepara a replicare quellesperienza, ha avuto una particina nella terza stagione della serie, e l'hanno richiamato questanno. Girerò alcune serie insieme a lui, ha dichiarato a People laurley. Damian interpreta il principe Ansel von Liechtenstein. È sempre stato un grande fan della serie, e non perché ci fossi io, vederlo coi costumi di scena, muovere i primi passi in questo ambiente, mi rende molto orgogliosa. Ma, Elizabeth Turley, ha parlato anche di cosa voglia dire e per lui essere figlio di una mamma famosa, conosce tutti i vantaggi Avere i soldi ci permette di saltare la fila ad Euro Disney. Ma anche gli svantaggi, non sempre è riuscito a difendere la sua privacy. La fama è un'arma a doppio taglio, ma lui la vive nel modo giusto. L'amore della madre, Damian lo ricambia appieno. Il suo account Instagram è pieno di immagini del passato, che lo ritraggono bambino tra le sue braccia. In occasione del suo compleanno, nel post d'auguri la definisce persino la persona migliore del pianeta. I consigli di Elizabeth? Quell'account social, Damian Urley l'ha aperto al pubblico proprio in occasione della sua partecipazione a The Royals. Sto convincendo mia mamma a farmelo fare, ha confessato lo scorso dicembre nel corso di un'intervista. . Ma, Elizabeth, a quella richiesta ha così risposto, gli ho detto, assolutamente no. Mantieni l'account privato, perché pubblicherai un sacco di photoshop insieme ai tuoi compagni di scuola, ed è giusto che loro mantengano la loro privacy. . Dal momento che sta iniziando a lavorare, capisco che abbia bisogno di un account professionale, gli ho chiesto di aprirne uno a questo scopo, e di tenerlo separato da quello privato. . È quindi questo secondo profilo, che potranno vedere le persone che un giorno vorranno offrirgli un lavoro, o che si innamoreranno di lui. Le sue immagini private ebbene che rimangano nascoste per ora, è troppo giovane. . . In questa sua carriera dottore, Elizabeth Turley lo sta incoraggiando, allo stesso tempo, lo incoraggio anche a concentrarsi negli studi. Anche in quelle materie che magari nella vita non servono, ma che aiutano a renderti una persona interessante. . Gli dico sempre, non vorrai che la gente sia noi a cena con te. Devi conoscere la geografia, la storia, anche se avrai abbastanza talento da diventare una star del cinema. . .